Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Guerra Lampo, Blitzkrieg, che è un gioco edito dalla GiochiX, che io intanto colgo l'occasione per ringraziarle di cuore, perché mi hanno mandato anche De Vulgari Eloquenzia, che è il prossimo gioco che recenseremo. Grazie veramente di cuore ragazzi, è un onore, un orgoglio collaborare con voi, e ora è già qualche mese che si va avanti, quindi grazie, grazie veramente, immensamente. Ogni volta che c'è una novità, siete sempre pronti a mandarcela, quindi grazie veramente di cuore. Parliamo di un gioco piccolino, un gioco praticamente da viaggio, come li nomina anche mio amico Pippo e collaboratore, perché sono contenuti comunque sia nelle spese che nella confezione e tutto quanto, e si porta tranquillamente a giro. In questa Guerra Lampo, Blitzkrieg, è un gioco che è molto interessante, e questo gioco di Paolo Mori era stato, non tanto qui si vede passare una codina, che se non mi disturba mentre faccio i video non è contenta la gattina, Paolo Mori l'aveva proposto questo gioco su Board Game Geek, un gioco veloce, pensato appunto per partite brevi. Infatti la cosa bella di questo gioco qui è che si cerca di fare appunto una Guerra Lampo nel giro di 20 minuti e mezz'ora, così da avere la possibilità nel corso della serata di fare più partite e magari provare più strategie. E questo stesso gioco è uscito sulla rivista Io Gioco, se non erro, comunque note che si possono leggere anche nel regolamento o sul sito della GiochiX, e gli era stato proposto appunto di pubblicarlo insieme a loro. L'hanno pubblicato ed ha avuto talmente tanto successo che poi hanno deciso di farne una versione vera e propria scatolata della GiochiX e buttarlo sul mercato al pubblico. Ed è un gioco veramente interessante perché riprende tutti i panorami di guerra più conosciuti, tipo l'Europa, il Pacifico, ovviamente si parla di Seconda Guerra Mondiale, ed è bellino perché è molto veloce e immediato come regola e tutto quanto, però anche questo come profondità strategica è veramente veramente molto interessante. E poi lo sapete, io con i giochi della Seconda Guerra Mondiale ci vado veramente a braccette e a nozze perché lo adoro come contesto storico. Unboxing, confezione del gioco, bellina, che sembra, cos'è, una nave, un cacciatorpediniere, un incrociatore, qualcosa insomma che viene colpito, affondato, e vedete anche questa è una confezione abbastanza piccola, un gioco di Paolo Mori e vedete Guerra Lampo Blitzkrieg. È veramente, ovviamente edito dalla GiochiX, è un gioco veramente veloce che vi devo dire la verità, ci sta, ci sta veramente tanto ed è molto interessante perché ti permette di vivere i più famosi panorami della Seconda Guerra Mondiale, però è un gioco dove alla fin fine non c'è da mettere tante miniature, non c'è da fare un setup della Madonna, non c'è da giocare per ore e ore, magari anche per giorni, perché se i turni non bastano, si va come succede a volte in giochi in wargame tipo Warhammer, Bolt Action, che in tutta la serata non si riesce a finire la partita e quindi si lascia al campo lì per un'altra volta. Questo è un gioco che veramente in 20-30 minuti, la prima volta, perché dovete spiegare un po' le regole, riuscirete a conquistare tutto quanto il mondo e in questo gioco nelle fazioni ci sono gli alleati da una parte e l'asse dall'altra, quindi ovviamente asse che nel caso del Pacifico comprende il Giappone. È un gioco molto interessante, vi faccio vedere un po' come funziona. Intanto apriamo. Regolamento di gioco, veloce, anche qui pieno zeppo di esempi e anzi sottolineati, racchiusi e colorati per farvi vedere ancora meglio come funziona e qui vediamo tutti i tipi di truppe che si possono usare sul campo, ovviamente truppe di terra, truppe di mare, truppe d'aria e poi i vari generali o ammiragli delle flotte che servono per avere dei bonus particolari. Regolamento piccolo ed è veramente molto veloce. Regolamento per giocarlo in solitario, quindi se lo volete giocare da soli il gioco è anche provvisto, alla faccia, di una modalità in solitario con intelligenza artificiale, quindi non è da poco, veramente è un gioco PvP di battaglie ma con un regolamento particolare per giocarlo da solo, quindi ancora di più va a infoltire l'offerta che c'è dentro la scatola. Molto molto interessante anche la scelta di farlo solo in solitario. Tabellone di gioco, che poi vi faccio vedere tutto aperto. Vari token e segnalini, che ora poi si vanno a dividere, sono pochi, quindi anche questo c'è poca possibilità di perderli. Una sacchettina per ciascuna fazione, quindi uno per gli alleati e uno invece per le forze dell'asse. Cubettini di legno, che servono per segnare i punti all'avanzata sui vari panorami di guerra. E due paravento, uno per le forze dell'asse e uno per gli alleati, che poi tra l'altro dietro è molto bellino perché ci ricorda insomma più o meno le abilità e delle varie cose. Ci dà un reassuntino senza per forza ogni volta dover andare a prendere il manuale. Vi faccio vedere un po' come funziona. Questo è il tabellone di gioco, che è diviso in campagne. Vedete c'è tipo l'Europa occidentale, l'Oceano Pacifico, da questa parte qui vedete l'Europa orientale, Africa e Medio Oriente e qua giù sud-est asiatico. Poi questo qui che vedete è uno dei due paraventi che vi ho detto all'inizio, che sono questi qui del gioco. E' uno dei due dove dietro poi ciascun giocatore che vi faccio vedere metterà nascosti i propri simbolini dell'unità delle truppe per appunto usarli contro il proprio avversario. Poi abbiamo ciascun panorama, teatro delle operazioni, è diviso in campagne, quindi vi ho detto 5 teatri delle operazioni giocabili. Poi ciascuno di loro ha delle campagne, tipo questo ne ha una, questa un'altra, questa un'altra e ad esempio in Africa e Medio Oriente invece sono soltanto due campagne divisi per caselle con dei diversi colori all'interno e un simbolino che vi dà qualcosa di particolare quando conquistato. Nella fattispecie quando una casella è blu ci potete mettere o unità di mare o ovviamente unità aeree su una casella blu. Quando una casella è marrone ci potete mettere o unità di terra, questo qui ti porcare al mattino, o al solito anche unità aviazione. Quando è marrone o blu ci potete mettere qualsiasi cosa, quindi aviazione, cararmati e navi. Ricordatevi che l'aviazione, col fatto che appunto sorvole nel cielo, può essere usata su tutti i tipi di caselle, quindi di qualsiasi colore. E visto che ci siamo vi faccio vedere un pochino quale sono le truppe, le unità che vedete hanno sempre un simbolino che ha un valore per il punteggio, in cima che poi vi spiego successivamente, e sono unità di acqua, unità di terra, unità aeree, ufficiali o comandanti d'armata generali che potete utilizzare, e poi con il fulmine invece ci sono le unità Blitzkrieg. Vedete, è uguale a quella dell'aeroplanino soltanto con il fatto che c'ha un fulmine. Su ciascun tracciato, vedete, da una parte c'è il simbolo delle forze dell'asse, dall'altro lato c'è il simbolo degli alleati, e questo qui è un cursore che all'inizio deve essere messo il cubettino al centro sul punto rosso, quindi ogni volta che l'asse guadagnerà dei punti si sposterà verso di qua, ogni volta che li guadagneranno gli alleati si muoverà verso di qua. Poi, la tabella dei punti vittoria generali, con il cubettino verde per gli alleati, grigio invece per l'asse, e anche questo dovrà essere spostato sulle varie caselle, e a fine partita chi ha più punti vince. Queste qui sono truppe speciali, quindi, come vedete nel giro, qui c'è una portaerei, vedete, sono cose che possono essere sbloccate e pescate nel corso della partita, o un carro armato particolarmente potente con un grande valore in fondo, quindi fate sempre il mucchietto qua giù in fondo, e poi, come vedete, sul tracciato, oltre a tutte queste cose, ci sono anche nello scudo dei punti, questi qui sono i punti vittoria, quindi chi andrà a completare una campagna di un panorama di guerra, che poi si chiamano teatro delle operazioni, chi la andrà a vincere, chi avrà il più grande punteggio, andrà a prendere anche i punti che ci sono qua giù in fondo. Come detto, le unità sono esercito, marina, aeronautica, generale, poi nel caso c'è anche l'ammiraglio, ammiraglio, e blitz aereo. Le truppe, ovviamente queste qui sono normali, le mettete sul campo e andate a vedere il punteggio, mentre invece il generale appartiene all'esercito. Avanzi di uno spazio sul tracciato battaglia, per ogni segnalino esercito, quindi il car armato e aeronautica, che è già piazzato in quel teatro delle operazioni. Quindi, quando mettete, se su una casella mettete un generale, per ogni unità di aviazione o di terra, che avete sul panorama di guerra, quindi su tutte e tre le campagne, avanzate di un tracciato comprensivo anche di lui. Quindi nel caso ne abbiate cinque, più lui sei, avanzate uno, due, tre, quattro, cinque, sei, a seconda che siate degli alleati o dell'asse. L'ammiraglio, invece, unicamente per la marina e l'aeronautica, quindi senza il carri armatino, per ogni truppa di mare e di aviazione, che avete nel campo, segue la stessa regola. Mentre invece il blitz aereo, una volta che giochi un blitz aereo, quindi vai a bloccare uno dei quadratini, automaticamente, subito dopo, ne puoi giocare un altro, perché per ciascun turno, ciascun giocatore, può mettere soltanto un segnalino, che se no uno li va a mettere tutti e vince la partita. Quindi, per ogni turno, ricordatevi che ogni giocatore ne può andare a posizionare uno e uno soltanto. E poi ora, ovviamente, vi vado a descrivere cosa sono i simboli che vedete qua giù. Comunque, nel setup iniziale, questi qui, vi faccio vedere il giro, sono degli alleati, mentre invece questi di qua sono dell'asse. La prima cosa che dovete fare è prendere questo sacchettino qui e prendere tutti i token, segnalini delle truppe che hanno il simbolo, che sono un bel po', li andate a prendere e li andate a buttare dentro il sacchettino che ovviamente per ogni turno e ogni volta che dovrete andare a pescare dovrà sempre essere shakerato. Quindi ora qua dentro ci sono tutti quanti i segnalini, voi lo chiudete, lo shakerate e poi ricordatevi che dovrete andare a pescare qui. Nel paravento, come vi ho fatto vedere dietro, nello schermettino ci sono scritti tutti quanti, ad esempio, Blitzkrieg, tutti i token che vi potrebbero capitare, almeno sapete già come funzionano e cosa fanno e qua dietro ci dovrete andare sempre a mettere dietro le vostre truppe perché all'inizio del primo turno ne dovrete andare a pescare tre. Quindi all'inizio ciascun giocatore ne pesca tre da qua dentro e poi una volta pescati li va a mettere dietro il proprio schermo. A me al momento sono capitati questo. Quindi una truppa di terra, un'altra truppa di terra e un aereo e li vado a spostare. Ora ve li lascio qua davanti fate conto che sono messi qua giù dietro. La cosa che si può fare nel proprio turno è piazzare un segnalino quindi uno soltanto di quei tre lì che avete lo potete piazzare in qualsiasi teatro di guerra quindi qualsiasi delle cinque location. L'unica cosa, l'unica regola è che la dovete piazzare sempre sulla linea più alta. Non potete scegliere una delle tre devono essere completate una alla volta. Quindi se qua giù ce l'ha già messo un tedesco voi lo potreste andare a posizionare qui accanto o magari qui accanto però sempre e solo sulla riga più alta che non è ancora stata completata. Nel caso decidiate di no l'Europa occidentale non mi interessa mi interessa il bonus qua giù delle bombe dell'oceano pacifico potete tranquillamente prendere l'aviazione e andarla a mettere qua giù. L'unica regola è che deve essere sempre sulla riga più alta fino a che questa non viene completata. Quindi finendo questa campagna si sblocca questa finendo questa campagna si sblocca quest'altra. Devono essere fatte tutte in successione se no sarebbe troppo facile una andrebbe in quella in fondo per prendere più punti. No, sono sbloccate passo passo una dopo l'altra. Eseguite sempre l'effetto immediato di quello che c'è scritto sotto che poi vi dico quindi nel caso io dovesse andare a mettere l'aereo qua giù devo subito svolgere quello che c'è scritto l'azione che c'è scritta. In questo caso qui le due bombe. Muovete subito l'indicatore battaglia verso la vostra parte a seconda del numerino che avete sulla truppa. Quindi in questo caso l'aereo è da 1 e appena piazzato faccio prima l'azione. Fatta l'azione l'ho sposto di 1. Vedete che questo tracciato qui ha degli scudi da tutte e due le parti. Ogni volta che il simbolino pende dalla vostra parte e va su uno scudo automaticamente poi qua su in cima prendete un punto a vittoria. Quindi ogni volta che finite una campagna e prendete questi punti o il punto sul tracciato generale voi dovete sempre alzare questo qua e andare avanti. Finito tutto questo che praticamente è la fine del turno quindi mettere una truppa il vostro turno sarà sempre solo quello prendere e mettere una truppa in un panorama dovrete andare nel sacchettino e un'altra volta a pescarne uno nuovo quindi uno lo giocate uno o più perché nel caso ve l'ho detto di un blitz e ne potete giocare anche due e andate a pescare una nuova guardate che sculo disumano che ho avuto c'ho tre truppe di terra comunque c'hanno dei valori alti però non posso prendere altri posti d'acqua al momento. Ora i simboli che vedete qua giù non ve li sto a descrivere tutti perché ovviamente è per darvi un'infarinatura e vedere un po' come funziona però questo qui della bomba è un bombardamento cosa dice scarta ripone nel zacchetto un segnalino unità presa a caso dalla riserva dell'avversario quindi lo potete prendere tranquillamente e lo andate a scartare la riserva ragazzi è sempre il zacchettino sempre quindi quando si parla di riserva il vostro avversario mescola voi lo andate ci andate a mettere la mano dentro ne prendete un a caso e lo buttate nella pila degli scarti che ne so in questo caso potrei aver buttato una corazzata tedesca dell'asse nella pila degli scarti e quindi col bombardamento li fate andare a perdere truppe ad esempio questo qui invece col simbolo dell'ingranaggio accanto è uno di ricerca e dice pesca un segnalino unità a caso dalla pila della ricerca e aggiungilo al tuo sacchettino la pila della ricerca è questo giallo che vi dicevo anche questi gialli seguono le stesse regole se sono unità di acqua come questa specie qui questa qui è una porta aerei la dovete sempre 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 andare a mettere in uno slot d'acqua però questo qui lo prendete in questo caso con quell'azione ve lo buttate nel sacchettino e rimescolate fate conto ragazzi che questi gialli sono le truppe in assoluto più forti del gioco ci potrebbe essere un più due come questo qui con però vedete qui ci sono due freccette alati che vuol dire vantaggio strategico avanza del numero di spazio indicato sul tracciato battaglia di un qualsiasi teatro delle operazioni e poi ci sono variazioni ad esempio il due con lo scudo è una propaganda avanza sul tracciato vittoria del numero di spazio indicati quindi andate sul tracciato vittoria e alzate anche qui di un numero di spazi che vi servono per andare avanti è lo stesso ragazzi dovete semplicemente leggere quello che c'è scritto sopra niente di più niente di meno tanto comunque tutto quanto spiegato velocemente nel di gioco si vince un teatro delle operazioni quando o il cubettino arriva in fondo quindi pende arriva sul simbolino qua giù del della vostra fazione che siate dell'asse o alleati o se no quando mettete l'ultima truppa sull'ultima casella dell'ultima campagna quindi come vi ho detto si parte sempre dall'alto quando si arriva in fondo quindi questa deve essere vinta poi sbloccherà questa questa qui una volta che è stata sbloccata sbloccherà quest'altra qui quando riempite anche l'ultima casellina dell'ultimo la fazione che ha messo l'ultima truppa sopra vince il teatro di guerra e vincendo il teatro di guerra ovviamente dovrete andare a guadagnare i punti che ci sono scritti ovviamente punti che andate a guadagnare se ci avete messo truppe sopra comunque chi vince il teatro dell'operazione generale si va a prendere tutti i punti che sono qui punti che poi devono essere contati dalla fazione sul tracciato a vittoria vince il primo che arriva a 25 però l'avete visto si può anche andare oltre perché ovviamente ci potrebbe anche essere il caso di uno spareggio nel caso nell'ultimo turno tutti e due arrivano a 25 quindi quando si arriva nell'ultimo turno a 25 punti quel giocatore che ci arriva ha vinto però bisogna dare la possibilità al giocatore e al rivale di fare l'ultima mossa per vedere se ci sarà un pareggio e nel caso uno spareggio finale ricordatevi che queste truppe gialle che vi ho fatto vedere finora sono a parte truppe forti che vi danno un punteggio più alto rispetto a quelle standard però hanno delle azioni quindi a differenza delle vostre truppe di terra o di mare che vengono posizionate e basta queste oltre a essere posizionate quindi posizionate in un punto vi da la risorsa che c'è scritto l'azione vi da il punto vittoria sul tracciato del panorama di guerra e in più vi da anche la possibilità di usare l'azione che c'è sulla truppa azione delle truppe che sono tutte quante descritte sul manualetto vedete ci sono tutte quante descritte una per una quindi comunque o il manualetto o come vi ho detto il paravento tenetevelo sempre a portata di mano perché almeno sarete pronti ad utilizzare le azioni e la battaglia va avanti turno dopo turno ogni volta che il giocatore ha posizionato una truppa quindi posiziono truppa passo il turno nel caso non debba faccio tutte le azioni ovviamente che c'è aggiorno punti a meno che non ci sia un blitz aereo che vi ricordo che sono questi qua vedete il simbolo di un aereo con un fulmine quando c'è un blitz non solo lo piazzate e fate l'azione che avete preso ma potete tranquillamente giocare subito un'altra truppa quindi truppa di mare truppa di terra e andare avanti quindi invece di giocare una truppa ne giocherete due la partita finisce in una delle seguenti situazioni un giocatore ha 25 punti vittoria alla fine del proprio turno quindi come vi ho detto prima uno arriva a 25 punti vittoria alla fine del proprio turno ha vinto la partita se il giocatore dell'asse raggiunge per primo i 25 punti quindi quello col cubetto grigio il giocatore degli alleati gioca un turno finale quindi se ci arriva prima quello degli alleati ha vinto se ci arriva prima quello dell'asse dà la possibilità di fare un ultimo turno agli alleati ha in questo gioco il giocatore che muove l'asse quindi quello col cubetto grigio muove per primo quindi quando iniziate una partita a due almeno che non sia in solitaria quello dell'asse farà la prima mossa o se no se il giocatore degli alleati raggiunge per primo i 25 punti vittoria è il vincitore della partita appunto come vi ho detto se tutte e due arrivano a 25 punti vincono gli alleati quindi nel caso ci sia uno spariggio finale lo spariggio lo vince automaticamente il giocatore degli alleati oppure all'inizio del proprio turno un giocatore non può piazzare alcun segnalino unità se ciò accade il suo avversario è automaticamente dichiarato vincitore quindi se perché il vostro avversario vi ha fatto scartare una carta nella riserva oppure proprio perché magari o non ce ne avete più o succedono in altri casi con varie azioni che ci sono sopra se siete impossibilitati nel vostro turno a giocare anche soltanto una truppa quindi dietro il paravento non ce ne avete nemmeno una non potete mettere in campo niente automaticamente avete perso la partita e il vostro avversario ha vinto quindi questo in poche parole è il riassunto veloce della partita è un gioco che sembra una cavolata perché è piccolino contenute tutto e poi ve l'ho detto più che altro la cosa bella è che è molto veloce che da una parte è bene e da una parte è male perché male per chi cerca le partite che durano veramente giorni giorni non le cerco io e bene invece per giocatori come me che vogliono fare una bella partitina in 20-30 minuti come Bang giochi veloci che almeno dice stavolta ho perso ma nella prossima ti faccio un paiolo così o provo altre tattiche è un gioco che ti devi girare bene sulla fortuna perché andando a pescare dal sacchettino non sa mai usateli fuori e nell'esempio che ho fatto prima se tiro fuori tre truppe di terra se in tutti i teatri di guerra io non ho la possibilità di mettere una truppa di terra ma mi serve magari una truppa aerea che la vada a posizione ovunque ma non ce l'ho con quei tre carri armatini io non posso fare nulla perché ho tutto quanto bloccato come avete visto anche lì la regola che vi ho detto prima se qualcuno è impossibilitato a giocare qualcosa quindi non è cioè la componente culo è molto ampia in questo gioco qui perché ti deve andare anche bene quello che peschi è anche vero che ho avuto una sfiga disumana non puoi ragazzi su tutti i segnalini che ci sono pescare tre carri armato cioè io penso che solo io sulla faccia della terra che io sfondo anche la matematica con me la matematica è un'opinione veramente però comunque c'è molto questa componente del fattore fortuna è un gioco molto interessante che poi si gioca in due quindi lo imprate magari giocate con un fratello un amico la moglie il marito con chiunque perché è veramente facile come regole ma soprattutto è bellino perché anche a livello logistico c'è da fare le giuste scelte quindi anche le truppe vanno posizionate nel posto giusto e poi un attimo chiude l'occhio e immaginarsi di essere in un gioco molto più ampio con truppe che si sparano bombardamenti ci sono anche le testate nucleari in questo gioco quindi voglio dire atomiche e c'è di tutto insomma tutto il panorama della seconda guerra mondiale c'è è appunto un blitzkrieg è appunto una guerra lampa è un gioco della seconda guerra mondiale per tutti gli appassionati come me di quel panorama di guerra però che hanno voglia di un gioco molto più veloce e per certi vertici comunque rilassante e rigiocabile perché la rigiocabilità è veramente altissima quindi se ne devo dare un voto a un gioco del genere che veramente mi ha preso molto veramente tanto e poi è bellino perché lo pieghi veloce lo rimetti a posto mettendo la roba nei sacchettini e te lo porti via che è una bellezza cioè lo apri lo butti sembra si monti da solo sto giocchino qui è veramente velocissimo per passare una serata va bene con tutti e se ne devo dare un voto veramente interessante gli do un 7,5 su 10 mi è piaciuto veramente da morire costo ridotto e secondo me è un gioco che dove lo portate lo portate ci sta vi dico la verità questo è un gioco per tutti non soltanto per gli appassionati di miniatura o comunque di giochi di guerra quindi sì un 7,5 assolutamente meritatissimo e ringrazio anche una volta la GiochiX grazie di quale ragazzi è un onore per averci offerto questa copia per la recensione e primo link in descrizione trovate dove acquistarlo e poi tutti i nostri link dei social ragazzi dateci in occhio perché come gioco tascabile da viaggio è veramente molto 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 interessante e ve lo consiglio veramente di cuore ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti i nostri